Eccola la partenza da Monastiere delle auto d'epoca, modelli dal fascino indiscusso come la BMW ZT3 del 1998 oppure la Fiat Topolino del 1936 ed ancora la Lancia Fulvia 1.3 Rally. Il rombo dei motori, gli occhi degli appassionati inchiodati su queste vetture storiche. Questa è la macchina di rappresentanza del Cavalier Marsoni, è nata nel 1957, è arrivata da Torino già con la guida a sinistra come macchina italiana, è una macchina completamente inglese. Questa macchina qua proviene da Belluno, è una macchina che ha restaurato mio papà negli anni 70, è carosseria in alluminio, ruote borraneo, 1.100. Di chi anno è questa macchina qua? Del 62. Beh, un'Alfa. Una delle ultime Giuliette. Senta, è più soddisfatto guidare un'Alfa o guidare un'auto storica? Mi sono sempre stato appassionato dell'Alfa. Un salto nel passato che ha attirato tanti cittadini. Ruote nella storia, edizione 2024. Il prestigioso autoraduno nato dalla collaborazione tra ACI Storico e Automobile Club d'Italia è andata alla scoperta del Borgo di Cison di Valmarino, località appartenente ai borghi più belli d'Italia. Ne abbiniamo alla storicità automobilistica, alla storicità del luogo. Aggiungiamo anche un aspetto enogastronomico che non guasta mai e che quindi fa da cornice quella che è una giornata che sempre ogni anno di più viene apprezzata. Scoprire i borghi a bordo di diamanti del passato, musei su quattro ruote e intrisi di storia da raccontare e tramandare. A Trevito ci sono molti appassionati di autostorica, abbiamo tanti club, nostri amici che ci supportano e dobbiamo dire che noi con la manifestazione Ruote nella storia, ma anche con la marca classica, cerchiamo di stimolare e di puntare su questo target che è un target molto importante. Altra cosa importante è questa nuova legge che permette di dare la targa originale alle macchine che vengono restaurate. Sì, è una legge che è andata in vigore da quest'anno, in ACI Treviso già lo facciamo.